troviamo un altro cattivo io cosa faccio il ladro è riuscito e diciamo vabbè non c'è nessun ladro oh non c'è nessun ladro vabbè oh c'è oh oh ok allora io esco dalla prigione eccomi qua ehi cattivo come hai fatto ad uscire eh sono evata sono sono evata dalla prigione io l'avevo chiuso con la chiave ce l'avevo in tasca non la sono portata in macchina eh sono riuscito ho rotto tutta la finestra e sono uscito adesso chiedo la porta della chiave no mi hai messo le manette aiuto aiuto adesso non vai prendere vado in galera galera l'ha chiusa tutta mamma mia l'ha chiusa tutta non ci sembra nemmeno una linea l'ha chiusa tutta non ci sembra nemmeno una linea adesso come spacchiamo la porta la spacchiamo è la macchina va bene così è la macchina della polizia quella ehi come hai fatto ad rubare quel telefono un amore è un amore eterno se l'amore viene al giorno all'inferno ma quando ci sorprenderà all'inferno questo amore sarà il mio vicendio ma che lo scelgo mia buona sera ma disperate con e nel tempo che verrà il mio cuore ti sorprenderà io è un amore è un amore è un amore il mio cuore è un amore è un amore è un amore Grazie a tutti